Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo videopool Ragazzuoli, finalmente il quinto anniversario è iniziato e vi ho portato un ospite sul canale Un ospite che non si vedeva da un po' Signori, ma salve, che piacere essere ospiti con il chinozzo Sei pronto a shaftare con me? Bro, shaftiamo a bestia Let's go, come al secondo anni, quando ci rotolavamo per te contro la obegita blu Uguale, uguale, uguale Allora, quanto budget abbiamo, bro, queste pullate? Allora, io ho 24.000 Ah, certo, certo Allora direi che, dai, facciamoci un giretto, giusto per non essere poveri Un giretto a testa Un giretto, un giretto per scaldarsi, vediamo che succede Certo, bisogna aprire le danze di questo anno, in qualche modo, no? E dai, personaggi, che ne dici, bro? Che dici dei personaggi? Ti piacciono? Ma sono i personaggi con le animazioni più belle che abbia mai visto La cura dei frame, adesso non so quanto ci avrebbe capito ieri live Che eri tipo mezzino zombie Ah no, però ho visto che erano belli Guarda i capelli di Goku quando tira la... Quando vede Super Saiyan Hanno animato il singolo capello Cioè, una figata Veramente bello Sì, si, animazioni assurde Anche tipo Frieza che parla durante l'LF È fighissimo Sì, 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 sì Veramente, veramente stupendi E poi c'è anche la novità, da virgolette Di un banner, finalmente Con tante sparking insieme all'LF Tre nuovi personaggi ho visto Mamma mia Sì, negli ultimi tempi erano solo LF singole e basta Tipo, non c'era nemmeno l'SP Side Invece, almeno come la prima parte dell'anniversario Abbiamo iniziato bene Sì, anche coloro che magari iniziano a giocare da poco Possono godersi il gioco Anche senza avere tutti, insomma I PG vecchi, le ultri Esatto, anche magari per i roll, eccetera Puoi ricominciare a giocare normalmente Solo con questo banner Bene Anche io stavo vedendo qui Il banner Sì, vabbè, lascia stare l'LF Lascia da desiderare Però ci sono, vedi, tre personaggi nuovi E hanno tutti quanti il 1% Quindi c'è un bel 3.5% Che ogni singola pullata sia utile Per gli account Nostri account E ci sono anche, mi sa, le animazioni nuove Almeno io non l'ho visto Cioè, l'ho vista ma non l'ho mai vista in game Perché non ho più l'altro Anche io Anche io, uguale Zero, non è mai capitata Bene Quindi facciamo le capitare Speriamo, speriamo, speriamo Allora Allora, facciamo così Facciamo così Ti offro una sfida Vai Sfidona Se uno dei due Trova Goku e Frieza Ok Nel video In qualsiasi video O tu o mio Cambierà poco Ok Facciamo Dobbiamo offrire L'uno un sushi all'altro La prossima volta che vengo a Roma E facciamo vlog Va benissimo Per dimostrare che è successo Va benissimo Ci sto Quindi se lo trovi devi godere Ma allo stesso tempo devi anche pagare Va bene Va bene Va bene Ci sto D'amante del sushi farò questo sacrificio Let's go Eh beh siamo due amanti del sushi Vero Assolutamente Va bene Allora che la sfida dia inizio Bro lascia te l'onore di iniziare E sei ospito Lascia me Vada Ok Allora Io ho già fatto qualche pullatina Ok Per dire la Quindi io parto con quella del 500 Ok ok Vai Let's go Andiamo 500 cristalli Di Crono Vediamo che cosa ci viene fuori Lo riesci a vedere in tempo reale Vero lo vedi C'è tutto a posto Sì 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 Vedi anche questa Navicella di giaco Per la prima volta Ma Della mia vita oltretutto Mai vista la navicella Oh 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 No Così Così Vardocco Beh le sparking sono tre Vedremo molte più animation È vero Vero Di questo tipo Sono tre nuove Quindi sono Non è da esultare troppo È da esultare sicuramente Ma nulla è deciso Io non voglio offrirti però Le sushi alla fria salmon Eh Attenzione qua No Voglio vedere Quella l'f 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 Ok La gnocca Ok Ok L'f Sì Sì No Non ci credo Dammi sto sushi Porco Due Tutti Sbagliati Va bene Dai Frito lo accetto Frito lo accetto Sai che Chinozzo Io ho iniziato Ad apprezzare Le lucertoli In un modo Dell'altro No Sei passato Allo lato scuro No È una gag È una gag Non è sul serio Però ti dico Ti dico che sono successe Delle cose Ma poi te ne parlo Off camera Per non farvi spoiler Ok Ti lascio fare Intanto la 300 E mi godo Questa meravigliosa Chiaouwei Che devo mettere Forte ragazzi Fidatevi che non è male Guarda che è un support Hai visto no? Con l'ultimate Sì bro C'è una combo Con l'ultimate Sbroccatissima questa Forte forte La verde Anche Anche il tizio Della squadra di Jiren Di cui non mi ricordo Tipo mai il nome Perché è tipo Non me lo ricordo Sì neanche io adesso Tipo Non me lo ricordo Come si chiama Che è Kedderina là Esatto È fortissimo Perché ve lo metti in cover E distrugge le carte Se non sbaglio Ma ti togli anche il Vanish E ti locca Non mi ricordo se ti loccasse Però il Vanish Non mi ricordo se ti locca Però ti toglie il Vanish È una cosa veramente cattiva È cattivissima Comunque la prima Qui è volata Semplicemente Con due Iron Extreme Quindi Niente da dire Niente da dire Allora Quanti abbiamo ancora Abbiamo Uno Due Tre Direi che possiamo fare Questa Da 700 E poi tu magari Te ne fai due di fila Così ti livelli a me Ok Vai Ok Allora 700 Crono Andiamo a buttare via I nostri risparmi Da free to play Che nell'ultimo periodo Mi hanno Impedito di pullare Una singola CC Su banner di chi Fatto bene Però le nazioni Ci stanno Insomma Due sparking Non diciamo di no Se mi porti a 6 stelle Che il Il tizio della scuola di Jiren Io posso Ritenermi soddisfatto Full dorato Ok Quanto prima di questo Non hai trovato nient'altro? Ho trovato Qualche sparking Normale Del banner Qua e là Ok E la E la prima copia Di Goku e Frizz Ah ok 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 Sì 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 Li ho trovati Li ho trovati Il botto l'ho già fatto Beh beh Ovviamente Il video con te Ci sta Ma che parla Vabbè Ma allora Li stelliamo Cos'è arriva al sushi Pure Esatto Io voglio invitarti al sushi Cioè questo è l'obiettivo Ok ci siamo Ti riprendo Con 500 300 Andiamo Sì Riprenditi con Con un paio Queste sono le prime Le prime si shaftano tutte Si sa Ah certo Oh C'è lo rosso Però 3 pod Eh Mi va quasi gasato Però 3 pod Vediamo Not bad Direi che ce l'hai Un blu Perché il tuo Dragon Ball Legend È così scuro Tipo L'hai tipo Oversaturato No no Non ci ho messo niente È il telefono Può essere Sono troppo definiti I tuoi personaggi I miei sono più sottili Tipo Forse ho messo La risoluzione al massimo È per quello Eh sì Può essere No ma no Qua dalla risoluzione Ce l'ho pure io al massimo Fa che strano Vabbè Fatti i 6600 Dai mi sto sushi Dai Aspetta si fa il trick Doppio No Poi ti riprendi Muto sì E vai Questa È Sparty Nuova Questa Me l'hanno L'oreditata Oh Oh Attenzione Non so se quella cosa Vuol dire qualcosa Io ho trovato Una nuova unità Con quella cosa Quindi Calmi Pulle oro Odorato Oh 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 Da questo sushi Porca troia C'è il sushi Chinozzo Calmi 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 Ho paura Calmi Sento già I nigiri al salmone Che si faggono in bocca Se trovo Gokuzza Nella Che è 7 Cioè Mamma mia Non sarebbe assurdo E poi non so se la navicella Quella di Jaco Vuol dire Future Oppure Cioè non so Cosa Vuol dire Neanche io Quindi sarà Una sorpresa Per entrambi Andiamo con calma Voi con calma Goditela con calma Ok No Ma che è Gokuzza No Era troppo bello Vesse vero Era troppo bello Nemmeno lo zincai hanno fatto Nemmeno una gioia Aspetta 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 Oh 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 Vatta No Non mi ci fa sperare Oh Oh Va a cagare Piccolo red Ma che è La navicella Vuol dire Shaft Vuol dire Vuol dire Personaggio banner WF Che doppio che qui Comunque fa male Fa malissimo No Vuol dire personaggio banner Cosa vuol dire No 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 Eh niente Vuol dire roba a caso Vuol dire roba a caso Vabbè Va bene Allora Io direi che possiamo Organizzarci così Possiamo fare Io faccio magari La multida 1000 E poi Tu tipo Extremo superiore La fare insieme Lo sai La facciamo assieme Eh perché È la più bella del banner Va bene Dai Facciamoci l'extremo superiore Dai L'ultima La chiudiamo così Pronto Vai 3 2 1 Si vola Upp Vediamo un po' Upp Un'ultima animazione Belle ciotte dai Per favore Upp Ci siamo Schifo Cielo verde 5 pod E cielo verde Con Tao Pai Pai Vabbè dai Facciamo la gara Che cosa più schifo Oh Genkidama Però attenzione Oh attenzione Deve essere interessante No niente Ma io sono full blue Ragazzi Madonna Che schifo Vabbè Cioè Tao Pai Pai ce l'ho anch'io Dai Quindi la sparking La diamo entrambi Sì Quello sì Tocca a vedere che sparking In teoria ce l'abbiamo Android 20 Cici extreme Zanghi Signori Guarda le nostre extreme Convengono fuori Mamma che schifo Guarda che roba Oh però Sto hub Non è nuovo È vero Vado se ciampa Ci stanno Mamma mia ragazzi La sparking Freeza E Trunks Kid Mamma mia Signori Oh fake out Attenzione Oh 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 L'accetto L'accetto tantissimo Dai 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 Ci sta Va bene Va bene Già stavo per piangere Un altro shaft Invece Va benissimo Va benissimo Calmi Ok ok Onesto Onesto Beh Direi che come Mezzo primo giro Ci siamo Ok manca Step 5 E la free Mancano Ancora Yes Non male Non male E vada lei Vada lei Vado io Sì 3 2 1 Let's go Ti prego La supplico Mi dia Un'animazione sana Una No Questa è l'animazione D'oddor shaft Eh ragazzi Mi sa che qua Che brutta Oh Il pugnone Attenzione La caricanza Animazione no sushi Si chiama Eh La no sushi La famosa sushi animation Ragazzi Gotenkida La sparking Madonna Ragazzi Baby Vegetta La roba puzza Comunque davvero tanto Sì Puzza parecchio Ma Ai 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 Il personaggio nuovo C'era signori Attenzione Il back to back Con la sparking Fa un frizza Questa Ma Va bene Va bene Ci siamo Almeno L'extreme nuova Una piccola gioia Sì Almeno L'extreme nuova Esatto Va bene Una piccola gioia Ok vado io Vado io però Facciamo il trick Facciamo il trick Vai vai Ti rego carico Non chiedo gokuza Chiedo anche Giren Tipo Giren mi piace tantissimo Va bene Vai Giren Vai Giren Oh Attenzione Ok un bard Un bard Così per farmi godere Al volo Tanto non è lf Godrei anch'io In questo momento Ah Vabbè Magari esce un altro broli Chi lo sa Ah certo Certo Non ho infatti No No Però sta animazione Da quanto ricordo Non vuol dire Tipo nulla Boh non è detto Sono trovato Vegito con questa animazione Blu Ti ricordi Vediamo Io con questa Perché ti ho shuffato Come lo schifo Su kid Mamma mia Mamma mia Ti prego Ti prego Schippa sta cosa Il broli Mamma mia ragazzi La tristezza Se siamo Che schifo Dai ma nemmeno Una spantina nuova Ma cos'è Una l'hai trovata Dai Mamma mia Mamma mia Vabbè C'è la free C'è la free bro C'è la free Vediamo farla insieme La free Ma no Facciamoci la alternata Dai Ok vai Free alternata La monnezza Porto io Chiudiamo le danze Su questo Primo shaft Mi sa che mi tengo pure Le medaglie Perché non siamo Se più No Ti gattivo dopo al massimo Vedo alla fine Alla fine Alla fine Attenzione Le pod Mamma mia ragazzi Che era una pod Che andava a rallentatore Ma che va fa È una pod a rallentatore Vabbè dai Il pugno in basso c'è Ma sbaglio Non ho messo Tipo anche il pool rainbow In basso Tipo quello di Dokkan Però sulle ultra Se non sbaglio Non lo so Solo che l'ho visto Ma che Super Saiyan 3 Dai Guardalo Almeno un Qualcosina Il chad Il chaddone Guardalo Dai dai Questa è nuova Questa è Il tizio scemo Della scuola di Di Jiren Saiyan Mamma mia Che schifo Master pack Master pack Master pack Dici Eh Super Ju Forse era poi L'unica sparking L'animazione Diciamo che Non prometteva bene Mi sta venendo voglia Di fare un altro giro Attenzione A Cell Junior Ragazzi Qui Siamo veramente Que tragica La situazione Madre mia Madre mia Che shaftatina Vabbè Io l'avevo detto Che siamo Sti compagni Di shaft Devo salvare Il mio primo Cile Devo Devi Devi In account Ho bisogno Di non shaftare Andiamo Si lanci Un Goku Se così adesso Va la finiamo Sushi Vogliamo le sushi Oddio Voglio di schippare Ciao Vegeta Ciao Vegeta Voglio di schippare Era alta adesso Un pochino meno Anche se Non so se Vegeta Così nel cielo verde Voglio dire qualcosa Se non sparking E basta Infatti Sparking No Ma perché Tutti Frisa Sbagliati Seconda sparkingina Bocia credo Bocia credo Va bene Guarda quanto è sparking Chilled purple Ma basta Ma che cos'è Master pack Anche questo Dovrai censurare Che ha ricevuto Una chiamata Ok Però c'è da censurare Anche questa multi Perché era veramente Imbarazzante Mamma mia Sicuramente Guarda che roba Il low E cooler E frisa Cilide Più li odio Più arrivano Sti cosi Oddio mio Oddio Santo Vabbè Dai Poteva andare Poteva andarci peggio Poteva andarci peggio Un'unità nuova L'abbiamo trovata Sì sì Almeno Sia te che Io l'ho trovata Un'unità nuova Ho trovato la support Abbiamo trovato Un 3.000 support Sì 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 Che io Anche quella che Forse preferisco Di più Qual è il numero Ottimale di medagliette Da prendere Se non sbaglio 50 Per prendere Cocuzza 50 Per prendere Cocuzza Sì sì Andrà così Teoricamente C'è da 15 Per avere La Z power Delle Legend Se uno vuole fare Il pazzo Potrebbe prendersi Il ticket Che potrebbero essere Una buona idea Ma i ticket Sì Però io aspetterò Aspetterò Tutti Vabbè certo Tu dovrai pullare Come un pazzo Io li ho già trovati Quindi Va bene Chinozzo Ci spostiamo Sul mio canale Che continuiamo Un pochettino Io mi faccio Gli ultimi due Tu continui un po' Esatto E poi dopo Insomma In bocca al lupo A tra un attimo A dopo ragazzuoli Ci vediamo Ciao 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 Here we go.